Michelangelo Donofrio e Benedetta Gemme. Quanti anni avete? 15. E dei più giovani partecipanti come mai avete deciso di partecipare? Per passione, perché noi facciamo molte gare in mare e ci piacciono e ci divertiamo e anche l'emozione di farla con altre persone, da cui anche dei campioni, è emozionante. Anche per me, io faccio diverse gare in mare e oggi ho avuto l'opportunità di fare anche questa e ho deciso di partecipare. Nuotare in mare diciamo che è molto più faticoso, però è più produttivo, invece in piscina è sempre avanti e indietro, è un po' monotono e noioso, il mare è più bello. E il fatto che ci sia il vento contrario cosa comporta? Sarà un po' più difficile rispetto alle altre gare nuotare, magari ci sposta e quindi non vediamo bene le boe. Sì, esatto. Sono un veterano, il mio mestiere è fare il cardiologo, però questa è un'altra mia passione, oltre allo sci e mi sento ancora vivo, finché faccio queste gare ci sono. E poi è una maniera diversa per esserci ancora, per essere un po' protagonisti, per un egocentrico narcisista come me, non c'è altra soluzione. non c'è altra soluzione. azola